I potenti continuano a farsi guerra con le risorse e noi subiamo, siamo vicini alla fine di questi soprusi? Beh, l'ho ampiamente spiegato. Il problema è uno, amici, ed è gravissimo, che se noi non ci ravvediamo adesso, anche che moriremo, ma le nostre sofferenze non solo non termineranno, peggioreranno, ci reincarneremo in situazioni ancora peggiori se non cogliamo oggi questa opportunità. Quindi il fatto che noi usciamo da questa schiavitù dipende dalle nostre scelte, perché sono state le nostre scelte a metterci sotto il gioco di questa gente. Quindi dobbiamo fare l'opposto delle scelte che abbiamo fatto fino ad oggi. E come ho spiegato nella presentazione, sia quelli che aderiscono alle proposte del sistema, sia quelli che non aderiscono, ma tutte e due vogliono rimanere all'interno di una logica di vita che è quella che il sistema stesso ci ha proposto fino a ieri. Il paradosso è che oggi chi sta cercando di salvare il pianeta sono i potenti. Il grande reset non è altro che la distruzione dei consumi, dell'economia, perché i potenti hanno capito che senza un pianeta le loro ricchezze non hanno senso, che se il pianeta muore muoiono anche loro. Certo sono dei folli, fino a ieri hanno promulgato un sistema devastante che ha distrutto il mondo, oggi di colpo capiscono che devono smettere e attaccano il sistema stesso che loro hanno costruito. Ovvio che l'umanità è disorientata, ma il paradosso è che i potenti stanno cambiando e i popoli non vogliono cambiare. Quindi vedete che situazione assurda si è creata. Quindi dipende da noi uscire fuori dai domini, che non è sconfiggere il potente, perché tutte le rivoluzioni che ci sono state nel nostro mondo hanno portato a cosa? Che non è cambiato nulla. Sono cambiate le facce, i sistemi politici, ma di fatto il popolo è sempre sotto il gioco di un qualche potente. Quindi se questo giochino va avanti da migliaia di anni, ovvio che qualcuno lo deve cambiare e chi lo cambierà non saranno certo i potenti. Lo dobbiamo fare noi, ma non lo vogliamo fare nemmeno noi e quindi non si esce da questa situazione. Ecco perché sta intervenendo un potere superiore, cosmico e divino. C'è un potere di più alto livello che impone con forza, attraverso metodi che facciamo fatica a capire, perché sono basate su queste leggi universali, il cambiamento forzato di una umanità che non vuole assolutamente cambiare nei potenti dominatori, nei deboli dominati.